Quindi c'è una certa contraddizione e bisogna anche vedere che questa posizione della Cina è stata molto facilitata dall'atteggiamento degli Stati Uniti che hanno avuto una politica estera almeno erratica e che si stanno toliendo, che non assumono più la loro responsabilità. Quindi la Cina cerca di assumerla al post ma solo in quello che gli sta. Oggi questo accordo sarà raccogliato. Oggi questo accordo sarà raccogliato. Oggi questo accordo di Sraff 3. Oggi questo accordo sarà raccogliato. 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 Oggi questo accordo sarà raccogliato.